Ben tornati signori nel secondo episodio del let's play di until dawn remake signori oggi alle 14 è uscito il primo episodio spero che sia andato bene spero vi sia piaciuto ho fatto anche qualche piccolo editing il primo episodio ci sta adesso tiriamo dritto ragazzi non so quanto durerà ho detto che nello scorso episodio cercherò di fare episodi molto più lunghi perché ho tanti giochi da registrare ragazzi quindi ho bisogno di metterci meno nel registrarli quindi ragazzi vi invito come sempre a lasciare un mi piace un commento cerchiamo di arrivare a 5000 like ragazzi come sempre per andare avanti nella nostra fantastica serie ho alzato un po' il volume del gioco ragazzi quindi vi consiglio sempre di tenere le cuffie perché questo è un gioco che merita le cuffie tra l'altro ho tolto i e poi non lo so se è più bello così ragazzi vediamo un secondo perché ho tolto i due trentanovesimi vediamo se forse è più bello così non lo so raga non ho idea vabbè vediamo così e tra l'altro ho messo i sottotitoli molto piccoli fatemi sapere se volete togliere le bande sopra però purtroppo raga mi sa che quando uscirà il gioco sarà molto più avanti domani ok il canciaro non si apre scavalca da josh washington ehi com'è che si arriva e bisogna scavalca e scavalchiamo e scavalchiamo e sicura chi ha cauta vai cauta però si possono rompere non mi sembra il caso di rischiare di cadere da un cancello raga c'è le cose piano piano c'è motivo di tanta fretta no? voilà un culo che salto ok uno scogliettolino che carino ehi piccolino ciao piccolino hai fame? mamma mia carino che caruccio ogni tanto ci stanno queste cose raga ok let's go che bella atmosfera oh bello le polazioni indigene profezie delle farfalle le farfalle fossero portatrici di sogni e possibili profezie il colore della farfalle indicava la natura della profezia morte le farfalle nere pronosticavano la morte del sognatore pericolo le farfalle rosse mettevano in guardia da eventi pericolosi perdita le farfalle marroni preannunciavano una tragedia riguardanti gli amici guida le farfalle gialle offrivano visioni di guida e supporto fortuna le farfalle bianche portavano sogni di fortuna e buon auspicio non me le ricorderò mai ragazzi i colori non me le ricorderò mai il passato è fuori controllo vorrei dire il passato va oltre il nostro controllo ok avevo permesso chiusa lo zaino la tua borsa è qui dove sei non è che sei nella borsa bene che cos'è che abbiamo qui chiudi lo zaino dai forse non dovresti stare tra le cose di Chris siamo brave persone effetto farfalla raga non sono affari tuoi attenzione Sam rispetto alla privacy di Chris eccolo Chris ha una cotta per Ashley lealtà protettivo e spiritoso che carino Chris ho trovato una cosa niente male cioè non te lo dico devi vedere da sola vieni di qua dove proprio qui vedrai che roba super comunque a pensarci ragazzi lo scorso episodio potevo lasciarla andare mia sorella oh cavolo guarda qui milligram victor è ricercato il riscala per incendoloso di primo grado probabilmente è quello che ha aveva dato fuoco al capanno questo posto è quasi sempre deserto nessuno viene qua niente male già guarda queste bellezze beh bellezze non è la prima parola che mi viene in mente cosa diavolo ci fanno qui che intendi che cosa diavolo ci fa un poligono alla base di una baita da sci scusa ma tu l'hai conosciuto il padre di Josh si lui si crede tipo Grizzly Adams vuoi provare no fai pure tu Grizzly bene andiamo neanche un colpo si sbaglia qua signori wow bel colpo Tex grande sono un duro sono un vero duro secondo me è un chiaro caso di fortuna del principiante non credo proprio ragazzo insomma ragazzi chiunque potrebbe colpire una bottiglia tanto grossa da così vicino no lo scoiattolo no perché devo uccidere lo scoiattolo raga bel colpo ti ho appena fatto il culo siamo troppo buoni però ragazzi oh però è effetto farfalla boys ratti con la coda pelosa non hai sparato allo scoiattolo ok allora capite il senso di questi giochi voi vi starete chiedendo vi siete chieste prima no ma perché c'è stata quella scena dello scoiattolo ti aiuta a capire anche un po' i personaggi no lei ha dato da mangiare allo scoiattolino lei è una che gli piacciono gli animali e tutto se io avessi sparato allo scoiattolo adesso non pensando alla scena di prima avrei avuto un brutto rapporto con lei sicuramente è davvero strano ritrovarsi qua su dopo un anno e invece è meglio mantenere belli i rapporti tra di loro un anno passo in fretta ehi strano è chiusa già Josh voleva tenerla chiusa tiene fuori la gente ha detto così quale gente ha detto che una volta hanno trovato qualcuno che ci dormiva accidenti grazie bruttina Sam raga una pensatina ce l'avete fatta poi in HD così allora andiamo a vedere qua che cosa c'è che posto strambo dove andare a vivere anche per dei ricconi un tale sanatorio però una mente è un corpo sana per chi conoscesse bene la storia di Antidone ragazzi sapete cosa c'è la sanatoria io cercherò di non farvi troppi spazi prima magari avete sentito un piccolo pezzo dove si è mutato un attimo il gioco faccio l'audio del gioco e della voce un dito raga ho detto un mezzo spoiler meglio non dirlo magari qualcuno di voi non l'ha mai visto e quindi rispetto anche voi raga però sti dialoghi io volevo ascoltare il dialogo raga come il ballo della scuola si comincia si l'avventura ha inizio spero sia stata la scelta giusta e comunque ripeto sai ritrovarci tutti insieme anche questo pezzo qua non me lo ricordo josh sembrava davvero contento che ci ritrovassimo già si è felicissimo credo di non averlo mai visto così eccitato per qualcosa bene bene è difficile capire come sta ero un po' preoccupata no no è stata una buona idea spero che anche gli altri la pensino così siamo tutti qui no? grazie sei proprio un vero amico non ci sarebbe stato sto dialogo avessi sparato o questo rapporto sai come ho conosciuto josh? no ok eravamo in terza josh era in fondo alla classe io in prima fila ci ignoravano completamente poi il ragazzino seduto accanto a lui ha tirato il reggiseno a quella che stava seduta di fronte così l'insegnante l'ha spostato davanti dove ero seduto io ok e così sì sono finito dietro e? ero accanto a josh e così ci siamo incontrati e siamo diventati amici fino ad oggi fatti l'uno per l'altro se non fosse stato per Jeannie Simmons che ha raggiunto la pubertà con tre anni di anticipo e se quel giorno non avesse indossato una maglietta che lasciava intravedere il reggiseno chi lo sa potresti essere su questa funivia da sola proprio ora oppure potresti parlare con un'altra persona boom effetto parfalla ma che brutti sti tagli però così eccola sesso ciao Jess come stai oh cavolo cavolo arriva qualcuno vediamo chi è oppala allora Jess andiamo a vedere chi c'è che sta arrivando piano piano ok se ne rilascia oh mio Dio me la sono vista brutta altri dieci minuti là dentro e avrei iniziato a mangiarmi una gamba schifo Chris guarda io ho un sacco di carne addosso questi qui sono tutti muscoli sì certo eh ehi bene 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 cosa abbiamo qui Chris accidenti sembra che qualcuna abbia una cotta per il nostro caro amico nonché capoclasse Michael Monroe Chris cavolo mi chiedo che razza di fantasia erotica può avere la nostra Jessica eh chissà ridammela da qua imbecille felicemente imbecille sei proprio un idiota forse sarebbe meglio se gli impiccioni imparassero a farsi i fatti loro eh sì in un certo senso hai ragione avanti Jess a noi puoi dirlo sappiamo mantenere un segreto no tanto lo scoprirete da soli va bene va bene vediamo di salire alla baita ne ho abbastanza di tutta questa natura voi andate avanti io resto qui ancora un po' a vedere se arriva qualcuno intendi Mike cosa ma no dicevo chiunque immagino che bello raga stupendo a volte mi scordo di fermarmi a mirare queste cose ehi ma non potevano costruire la baita accanto alla stazione d'arrivo della funidina ciao Emily intelligente intraprendente schiettezza la ragazza di Matt non credo che sarebbe stata così pittoresca sai beh il ragazzo di Emily cortesia affidabilità attivo e non c'è mai un facchino quando serve siamo alla baita degli Washington eh non solo il tuo facchino noi brividi ci siamo quasi no voglio dire mi sento a disagio oh capito sarà strano ritrovarci di nuovo tutti qua su di sicuro non sarà una normale scampagnata voglio dire cosa pensi che che è che spiritoso Mike ragazzi 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 davvero avreste dovuto vedere le vostre facce cazzo mi viene da prenderti a pugni non male Mike sei un idiota dai ragazzi siamo amici o cosa niente violenza dobbiamo solo divertirci siamo in una foresta è paurosa su entriamo nello spirito della situazione lo spirito della situazione sei scemo cosa cerco solo di sdramatizzare dai dai benvenuto Michael lasciamo perdere altrimenti questo weekend diventerà uno schifo generale la situazione è strana e lo sappiamo tutti facciamo pace con questo concetto e andiamo avanti ok ho capito si non peggioriamo le cose bene a posto a posto adesso vi bacerete pure oddio si adesso ci baceremo con la lingua e no meglio che vada a dare un'occhiata alla funivia ok ci vediamo a dopo bene a dopo non me lo ricordavo così scemo Matt eh raga ah merda cosa puoi portarli per il resto della strada i bagagli si tutti quanti perché devo andare da Sam ok scusa è che devo proprio parlarle mi sono ricordata di una cosa che devo dirle prima che arriviamo lassù ma non puoi aspettare ci siamo quasi è importante Matt ti prego non ti lascio da sola emma sinceramente non penso che dovresti scendere da sola per il sentiero e perché mai fa freddo e sta diventando buio e hai intenzione di proteggermi dal buio lasceremo la roba qui e verrò con te non ce la ruba nessuno Matt mi prendi in giro non puoi lasciarmi sola neanche per 5 minuti non ti fidi di me ma non è per quello perché non mi ascolti devi sempre controbattere su tutto quello che dico scusami volevo solo essere gentile se vuoi essere gentile vedi di portare tutto quanto alla baita più in fretta che puoi ok ok va bene poi facciamo stronzi eh non va bene ci vediamo su dopo che ho trovato vero ragazzi vero donne eh guarda se a me si erano se fossi andato su guarda non mi chiede neanche se mi può accompagnare così tutte così mi è venuta l'ansia sentirla parlare ciao Ashley ha una cosa per Chris accademica, curiosa e sensibile che pezza di merda che c'è ah 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 eh scusami es non ti volevo spaventare mamma mia ma va bene oh volevo spaventarti ma spaventarti poco non per davvero oh mio dio eh wow mi dispiace es davvero ok sto bene sto bene che guardavi qualcosa di interessante ah eh guardare eh ah eh no non si vede molto non c'è proprio niente di interessante Ehm Minchia l'effetto farfalla E meno male raga Ma poi come aveva fatto a fare così? Che c'è il dirupo davanti Eccola Jessica Sesso Ma basta Little meme raga Torniamo al telefono Questa roba ripeto non c'era raga Per me è tutta nuova, è un gioco nuovo per me Dimmi che non l'hai fatto davvero Tieni le mani bene in vista Ti abbiamo circondato Ma chi sono io per reagire? Quale altra scelta ha questa povera ribelle Se non ti arrendersi alla rude guardia militare Che è venuta sin qui per prenderla in custodia? Io Beh non saprei se la metti così Ehi Ehi Oh Grandioso La pagherai, sappilo Dove ti stai nascondendo Piccolina Bam Ehi Liscio Ehi 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 ma che carino Ciao cellina Ehi Andiamo A volte non far niente La cosa migliore da fare Poi mi ha insegnato che Ti troverò Ges E poi Basta Forse sarà meglio Forse sarà messi I rimani non li tocca Sì Ecco Finito Tutto fatto Allora sono caduta Ehm Non direi Bene Il caso lo sapresti Va bene Va bene Ehi Sbaglio o ti stai dichiarando sconfitto? Sei una degna avversaria Jessica Regina delle palle Ok È un titolo un po' ambigua Mia signora Gula Wow Tienine un po' per dopo tesoro Non resto mai senza Saliamo alla baita Già Anche se qui è così bello È un posto fantastico Già Potrei anche restare qui Per sempre A patto che ci sia anche tu Per dei baci infiniti Soltanto baci Ho capito Ficchi Piro formici Gela Mi sa che finiremo per morire congelati Fra quel più e quel meno Già Ah voi donne non capirete mai ragazze Che chi è? C'è un uomo misterioso Da solo Ci si rivede Ciao Salve salve buonasera Non ci sentiamo Non c'è male Pare che abbiamo appena grattato la superficie della nostra ultima seduta Quindi ora andremo più in profondità Oh no Ok Va bene Sono pronto Questa volta Cercheremo di comprendere le radici della tua ansia Prendi il libro e sfoglia le pagine Vedrai una serie di foto e di simboli Voglio che identifichi quale immagine di ogni serie ti mette più ansia Ok Io raga lo sto vivendo come se fossi io Veramente Ah minchia Era una bella Eeeh Eeeh Gli aero la folla raga Mi mettono l'ansia entrambe Gli aerei Però di più Eeeh Oh mio dio No l'altezza Nella maniera più assoluta La ratio serbi E le serbi Le serbi Comunque qua mi state conoscendo un po' raga eh Pistolo coltelli Coltelli mi mettono Scarafaggi subito Ancora ancora Non mi fa paura Le viscero i corvi I corvi Mi mettono più ansia Che giocherellone Non preoccuparti Cerca di Velocizzarti Più ti affidi ai tuoi istinti Più oneste saranno le tue risposte E più istruttiva risulterà questa esperienza Ok Va bene Ragni Siringa Va bene così Oh non mi rispondere Eeeh Zombie Eeeh Gli aghi Pulmini Anche se in realtà forse gli aghi di più Molto interessante A me a volte i fulmini rilassano Grazie Per aver risposto Ho trollato l'ultimo Ragni Zombie Fulmini Che combinazione All'adia di un allegro venerdì sera Eh beh Ancora una volta Temo che il tempo sia finito Ma Ne riparleremo presto Va bene Lei ha bisogno di uno psicologo No Eh Se me è un po' stressato Quanto le devo? Sempre 60 euro Ok Ho trollato l'ultimo Perché volevo mettere aghi Vabbè Gelosia 9 ore all'alba Questa montagna Sembra più grande Ogni volta che ci salgo Anche un film comunque bellissimo Eccolo Josh Tenacia Creatività Allegria Dai Tu sei cresciuto qui Semmai ti sembra più piccola Sì Forse hai ragione Quando monterete Qualche ripetitore Per cellulari Sono in astinenza Se hai un milioncino Che ti avanza Possiamo farlo subito Ora che me lo dici L'ho lasciato nell'altro giubbotto Ops Ehi ragazzi Tutto bene la salita? Un fattorino ci avrebbe fatto comodo Ma Non si può avere tutto Sì Tutto bene Anche sia strano Cioè È strano ritrovarsi qui Chris Baita degli Washington Spettacola Spettacola Matt ed Emily Come stai? Ehi Come va? Deve essere difficile Senza le tue Basta Io volevo solo Ma cosa intendevi Davvero L'ho superato Voglio solo Voglio solo che ci divertiamo Va bene Come abbiamo Sempre fatto Pensavo che era Josh Che chiedeva a lui Dannata geratura del cazzo Ghiacciata? Ovviamente Ci sarà un altro ingresso Ci sono mille ingressi Ma sono tutti chiusi Deve esserci una finestra Che possiamo aprire O qualcosa del genere Aspetta Vuoi fare un'effrazione? Dubito si possa parlare Di effrazione Cazzo lui è fatto da Dioraga È bellissimo Ehi Ciao Chris Ehm Dubito si sa Come stai? Allora Come stai? Bene però Ho un po' freddo Mi raggomitolerei Volentieri davanti al fuoco Già Sarebbe piacevole Eh sì Ok Bene Andiamo Josh Ashley era proprio carina Oggi eh Eh sì Lei è davvero Una ragazza fantastica Sai Sarebbe bello Che si togliesse Quel parca di dosso Sarebbe un vero spettacolo Sì Decisamente Decisamente Quando ha intenzione Di provarci con lei Sul serio Sì La fai facile tu E dai su Praticamente Già adesso Passa tutto il suo tempo con te Beh sì Ma siamo solo amici Lui è fatto da Dioraga Senti amico Dai un'occhiata Guarda queste splendide montagne Vedi qualche genitore No Voglio dire Riesci anche solo a immaginare Uno scenario migliore Qualcosa di più incredibilmente erotico Tu E Ashley Finalmente soli Hai preparato tutto a dovere Sei stato il perfetto gentiluomo Ora Metti a segno Il colpo Forse hai ragione Forse hai ragione Sei un cacciatore Bello Niente paura Nessuna pietà Non devi lasciarle via di scappo Va bene Ho capito Ho capito Mi ha fatto un po' i galletti Raga Allora Qual è la tua idea Per entrare nella Baita Ehi Mica ho detto di avere un'idea Sembrava che ne avessi una Non mi deludere Capo Altrimenti Quattro deliziose signorine Si congeleranno i culetti Per causa tua E questo non è esattamente Il miglior modo Per combinarci qualcosa Ben detto A nessuno piacciono i culi freddi Oh Lì si è trovato Supporto ascia Un sostegno da parete Che dovrebbe supportare un'ascia Ma l'arma non c'è Dai Va bene Entriamo da qua sopra Dovai Oh Fermati Cazzo La batteria si Bene 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 Abbiamo un pensatore Buona idea Vai Oh Issa Vai Posto Bravissimo Eccoci qua O meno Sto bene Dovevo impegnarmi di più ai corsi d'arrampicata Intendi ginnastica? Sì E l'arrampicata sulla corda Oh A che ci serve uno stick di deodorante E' spray Una bomboletta Sì Ora capisco Lancia fiamme Proprio come facevamo con i soldatini Sì Li fondevamo Basta puntare lo spray contro l'accendino e Ciao ciao Serratura ghiacciata Bingo Bene Pensaci tu Io Devo andare a fare una cosa Te la senti di cercare al buio per un po' No Ma lo farò Buona fortuna ragazzo Grazie Josh Sembrano Non vorrei risultare offensivo Infatti non lo dirò A cosa sembrano Perché la mia non è Un'espressione offensiva Però nel modo in cui loro Quando fanno i dialoghi A volte sembrano Bellino Poi Allora Cosa abbiamo qui Custode Vabbè Condannato per incendio doloso Giura vendetta contro la famiglia Di un magnate cinematografico Vediamo se c'è qualche indizio Da trovare Tipo qua Madonna No raga la morte questo Stato è morte Madonna Comunque è impressionante Quanto è fatto bene Sto gioco Ma raga non c'è niente Però Vai qua È piccolissimo Raga Allora Mi sembra che sia La cinese Che muore nel fuoco Non sarebbe una cattiva idea Però No Il mio obiettivo non è Raga salvare tutti Ok Non mi interessa salvare tutti Io voglio Giocare in base A quello che noi Andremo a sviluppare Nel corso del gioco La cinese adesso Per me Perde punti Perché noi Vediamo sempre Che ci sono i rapporti Tra i personaggi Che sono importanti Ma è importante anche il rapporto Che abbiamo noi Con i personaggi Questa è la cosa più importante Che cazzo era Che cazzo era La fuck bro La corrente Allora Minchia Sembrava un quadro Raga giuro Per quanto è fatto bene Ma io dovrei andare Dovremmo cercare il bagno Non si vede nulla Raga giuro Non si vede niente Ciao Chris Molto divertente Come hai capito Che ero io Ma tu non dovresti Pensare a sbloccare La serratura Ok Ma Ha 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 Che scherzoso Allora Andiamo di qua Dobbiamo cercare il bagno Ragazzi Basta prendere il deodorante Io comunque Sono troppo curioso Raga di andare A rivedere I primi episodi Eh Indizio trovato Fotoballo studentesco Ah non c'è il bagno Però c'è un indizio Un nuovo messaggio Ok Messaggio Salve signora Washington Sono di nuovo Il sergente Tate Temo che ci siano Delle brutte notizie Abbiamo esaminato I documenti E non c'è nulla Che si possa fare È un uomo libero Non possiamo limitarne Legalmente Gli spostamenti So che Non è quello Che sperava di sentire Mi chiami Se ha bisogno Di altre informazioni Fine dei messaggi E sicuramente I genitori Delle due sorelle Hanno incolpato L'uomo Che si vedeva Che voleva Porgere la mano Sicuramente Avranno incolpato Lui Perché lui Quello che Poi in realtà Mi è accusato Di incendio doloso Un peccato però Tutto questo aspetto Sapere già Però non ve lo voglio dire Ragazzi Gentilmente Visto che tanti Lo sapranno Non spoilerate Spoilerate E venite bannati Istantaneamente Perché Dunque raga Magari alcuni di voi Non hanno mai visto La storia Se la stanno volendo Con noi Per la prima volta Anche perché Come vedete È diverso È completamente diverso Raga Fino a questo punto Almeno Oh Sta fatti Sarà al bagno Questo Ok Vai Deodorante Un lupo Nell'armadio Del bagno Qui ci stiamo Congelando Boh Boh Grazie 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 Sarò qui tutte le sere Che cos'era Che cos'era Stai bene Era Un orso Una tigre Non so Era solo un tenero Cucciolo di ghiottone Non preoccuparti Da grande ti passerà La paura Casa, dolce casa Non la definirei proprio dolce Grazie a Dio siamo dentro Anche se fa ancora un po' freddino qui Accenderò il cammino Questo posto è sempre lo stesso Nessuno ci è più venuto E tutta la polizia che è stata qui? Non c'è stato tanto movimento ultimamente No Ma ciao festaioli Ehi Ehi Fai come se fossi a casa tua Ok Lei ha la visione Oh mio Dio Ma che schifo Stai cercando di ingoiargli la faccia? Eh Andiamo Non potrebbe essere più discreta Tanto nessuno vuole la tua roba tesoro Eh scusa Hai detto qualcosa? Oh forse Il tuo troieggio era troppo rumoroso Sembra che a qualcuna bruci Essere stata scartata Già Per te Come al mercato del bestiame Sei una vacca di prima scelta Ti brucia proprio Chiamare vacca a Miss Homecoming Non è giusto Non è giusto Jess Stai mettendo tutti quanti a disagio Jess C'è invidioso? Emily è troppo frigida anche per te E dai Perché Senti Vabbè Devo far rifare il sottone lui Almeno io penso Media del nove Stronza Ricordati di me Quando darei via il culo per lavorare Chi ha bisogno di studiare Quando si hanno a disposizione Tutte queste doti naturali? Ti prego Non compreresti neanche un panino a muffito Con quel culo secco? Dici sul serio? Credi che sia un insulto? Questa stronza è fatta O quasi? Ehm Jessica vedi di tapparti la bocca Ok? No Sei tu quello che non deve ficcare il naso negli affari degli altri Adesso ti faccio vedere io cosa ti ficco stronza Oh vuoi una rissa? Bene Perché io non vedo l'ora Basta Non è per questo che siamo venuti qui Questo non ci aiuta Non è quello che volevo Se Se non riusciamo ad andare d'accordo per dieci minuti Forse ci serve un attimo di stare Mike Perché non vai a vedere il capanno Quello di cui ti ho parlato Il capanno Sì Sì ok Vieni Jess Sì ma senza quella puttana Madonna Proprio lungo il sentiero È finita Già Allora Josh Accendiamo il fuoco? Dov'è la borsa? Eh? La mia borsa Quella piccola con i disegni rosa Quella che ho preso da rodeo Matt mi stai ascoltando? Oh mio dio Non ti ricordi Accanto al negozio di scarpe italiane Dove ho preso l'estiletto E tu hai fatto cadere Quell'espositore Mentre sbavavi dietro alla cassiera Cioè Mi stava chiedendo Del giubbotto di pelle Che indossavo Certo Le importava proprio Del tuo giubbotto D'alta moda Perché odi il mio giubbotto Matt mi serve la borsa Raga è odioso lei eh Quanto goderemo raga Quando incomincerò adesso A prendere le scelte Contro di lei Ok Andrò a farmi un bagno E il bagno di Sam ragazzi Probabilmente lo vedremo Il prossimo episodio Il bagno di Sam ragazzi Lo vedremo in prossimo episodio Anche perché Per me è tardi Signori Non ho fatto tagli Praticamente Secondo me adesso Incomincerà ad essere Bello Bello Raga Domani alle 14 Domenica Terzo episodio Del remake Di Until Dawn Ragazzi Io vi saluto Vi ringrazio Qui da Cambo di Squadron Vi invito come sempre A lasciare un mi piace Un commento Ci vediamo domani Mi raccomando Puntuari ragazzi Mettetevi la sveglia Ciao